Ci fu mai un Dio che abbia provato, che abbia cercato di venire a prendersi una nazione in mezzo ad un'altra nazione? Mediante prove, segni, miracoli e battaglie con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto sotto i vostri occhi? Attenzione nazione coci, ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendere una nazione, una nazione, un popolo di mezzo ad un'altra nazione? Ci fu mai un Dio che abbia mai provato a prendersi persone e formarsi un popolo suo? E prenderlo in mezzo ad un'altra nazione, la nazione dei coci, attenzione, attraverso mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con questa gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto sotto i vostri occhi. Ma nel linguaggio biblico Egitto chi è? In quanto Dio viene a prendere una nazione, un popolo suo che è suo, che ha deciso che è suo, in mezzo all'Egitto e tirarlo fuori chi è l'Egitto. Egitto, in gergo biblico, in linguaggio divino è Egitto, è un paese, ma in linguaggio umano, che la mente umana possa vedere chi è l'Egitto nella parola di Dio, il Signore lo chiama Egitto, il popolo della ricchezza, dell'abbondanza. Attenzione, Egitto, in linguaggio biblico, Egitto è un paese, ma alla rivelazione Egitto è il paese dell'abbondanza, della ricchezza, dell'arricchimento. Attenzione, il Signore oggi si rivolge al mondo coach. Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non venne nessun altro. Tu coach, per te il tuo Dio è colui che ti manda a parlare, a fare il discorso che lo detta il tuo capo. Attenzione, che non è Dio. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti. Attenzione, che oggi Dio cerca, viene a prendere una nazione di mezzo ad un'altra nazione, mediante prove, segni, miracoli, parole, battaglie, con mano potente e con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto sotto i vostri occhi. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, per spiegarti il linguaggio biblico. Attenzione, il suo linguaggio. E sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di venire dal fuoco. Attenzione, il fuoco, il linguaggio biblico, è un fuoco alla lettura del occhio. umano, è un fuoco che ha delle fiamme, che si accende con l'accendino, che brucia e fa vedere la fiamma. Attenzione, ma il linguaggio umano, tradotto dal linguaggio biblico, attenzione, ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di venire dal fuoco, dalla sofferenza, dalla dipendenza. Attenzione, che ti ha fatto male. La dipendenza che lamenti, che soffri. Attenzione, egli ha amato i tuoi padri. Perché? Il coach che oggi il Signore cerca di strappare da un'altra nazione, che è l'Egitto, che è quel uomo, non Dio, che manda il coach, che prepara il coach ad arricchimento, all'abbondanza, che lo insegna come avere l'abbondanza. Attenzione, e il coach chiederà, perché a me? Perché io? Il Signore risponde oggi, egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Anche se tu non onori tua madre, tua madre e tuo padre, in quanto nei tuoi discorsi non li riporti con onore, ma dici, sono orfano, mi hanno abbandonato. Attenzione, egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. All'occhio umano, con la mente umana, condanniamo un padre e una madre che ci ha abbandonati, o che non ci ha ammaestrati come noi abbiamo voluto che ci ammaestrassero. Ma attenzione che il pensiero di Dio ha un altro ragionamento, la mente di Dio è lontana dal mente dell'uomo quanto il cielo della terra. Eri amato i tuoi padri, il Signore dice questo. Perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro e tu sei il discendente di tua madre, di tuo padre, anche tuo padre, anche se ti hanno abbandonato, anche se hai visto cose che non sono state una buona condotta per la tua vita. Attenzione, ma secondo il pensiero di Dio, lui ti dice oggi, ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro e lì in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza per scacciare davanti a te, per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso come oggi si vede. coloro che ti hanno ammaestrato per fare il coach, il Signore dice, per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te. Quelli che ti hanno fatto ammaestrare per fare il coach, attenzione, tu li vedi più potenti di te. Ma il Signore ti dice oggi, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso come oggi si vede, a modo tuo. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra e che non venne alcun altro. Non sono quelli i tuoi dei, quei maestri della scuola di coach. non sono loro più grandi di Dio. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti di Dio che oggi ti do affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. e tu dirai sì ho capito ma loro sono più forti di me e non capisco che cosa posso fare io e il Signore ci ricorda oggi ci ricorda che non bisogna fare favoritismo come prima cosa tu dici ma io parlo gratis alle persone e e io chiamo Dio in causa io parlo di Dio e il Signore dice oggi non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli molti mi diranno in quel giorno Signore Signore con la bocca non abbiamo noi profettizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni fatto in nome tuo e molte opere potenti allora dichiarerò dice il Signore dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori ma noi abbiamo profettizzato ma noi abbiamo guarito tante persone e diciamo anche il numero 40.000, 160.000 noi abbiamo profettizzato ma noi abbiamo guarito dove come è possibile che Dio mi dice oggi allontanatevi da me io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori ma noi abbiamo detto Signore Signore ma noi preghiamoci preghiamo, pieghiamo le ginocchia alla sera mentre prima di metterci nel letto noi facciamo la nostra preghiera il Signore oggi riporta ai coach un giudizio attenzione ci sono dei versetti parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà attenzione parlate e agite come persone che devono essere giudicati secondo la legge di libertà attenzione quando diciamo le parole libero arbitrio parliamo di libertà ma noi non siamo liberi e non agiamo in libertà perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia tu parli di libertà ma attenzione il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia la misericordia invece trionfa sul giudizio dove è la misericordia quando nella pagina di prenotazione ci sono le domande che non riguardano colui che è senza soldi l'orfano lo straniero la vedova quelle domande nella pagina di prenotazione non c'è un posto per la misericordia condanna del favoritismo non c'è una pagina per i poveri e una pagina per i righi condanna del favoritismo fratelli miei la vostra fede nel nostro signore Gesù Cristo il signore della gloria sia immune da favoritismi perché tu dici signore, signore io la preghiera la faccio piego le ginocchia faccio la mia preghiera e ho guarito 40.000 o 170.000 comunque ci sono anche voi riportate anche il numero dei guariti dei problemi dell'anima ma il signore oggi ci riporta questa legge della libertà dove voi riportate la pagina di prenotazione per chi ha soldi mettete dei costi quando vi proponete all'aiuto per i problemi dell'anima ma il signore ha qualcosa contro il favoritismo contro di voi infatti se nella vostra donanza entra un uomo con un anello d'oro vestito splendidamente quindi dice sono infermiera voi subito andate a vedere che stipendio ha se entra un uomo con un anello d'oro vestito splendidamente e vi e vi entra pure un povero vestito malamente e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite tu siedi qui al posto d'onore e al posto a povero dite tu statene là in piedi e siedi in terra accanto al mio sgabello non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base ai ragionamenti malvagi dove è la vostra legge della libertà perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia dove è la pagina della misericordia ascoltate fratelli i miei carissimi Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano voi invece avete disprezzato il povero la nazione coach non considera non ha la pagina del povero e tu dirai sì però i miei video rimangono e possono aiutare il povero no ogni povero ha il suo problema ogni spirito ha ogni cuore ha i suoi spiriti immondi attenzione e l'assistenza è particolare attenzione per essere particolare richiede soldi non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi i ricchi sono quelli che vi portano oggi in tribunale perché hanno soldi si possono prendere avvocati attenzione certo se adempite la legge regale come dice la scrittura ama il tuo prossimo come te stesso fate bene allora con le parole voi dite signore e signore non abbiamo noi profettizzato nel tuo nome non abbiamo noi utilizzato la parola ama il tuo prossimo come te stesso e fate bene dice il signore ma se avete i riguardi personali voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quale trasgressori attenzione che il signore oggi condanna il favoritismo e condannano condanna le parole che noi diciamo ma non facciamo dice la parola del signore quindi non chiunque mi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli quindi esiste un fatto che dimostra dimostra ciò che diciamo perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia la pioggia è caduta sono venuti i torrenti i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia su fatti su parole e su fatti attenzione e chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia quindi chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia la pioggia è caduta sono venuti i torrenti i venti hanno soffiato e hanno fatto impetto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande quando Gesù ebbe finito questi discorsi la folla si stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scrivi le parole copie in colla dall'internet e fare un video senza guardare il povero andare intorno con i fatti intorno al povero e capire il suo problema il Signore utilizza questo versetto perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scrivi e da scrivi presentare fare un video che non riguarda il problema della persona e e perché e perché non riguardiamo non guardiamo il problema la risposta essi non gridano a me con il loro cuore ma si lamentano sui loro letti si radunano ansiosi per il grano e il vino e si ribellano a me tutto sta intorno al grano e al vino il mondo coach sta tutto intorno al grano e il vino e si lamentano di notte nei loro letti con ansia si radunano si mettono insieme e si ribellano a me e non fanno ciò che dico io che oggi il coach che ascolta i capi terreni che lo mandano a raccogliere grano e vino e non ascolta la parola di Dio che riguarda i poveri quella pagina per i poveri il signore dice oggi Efraim si mescola con i popoli Efraim è una foccaccia non rivoltata gli stranieri divorano la sua forza e Dili non ci pensa capelli bianchi li appaiono qua e là sul capo e Dili non se ne accorge l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui ma essi non tornano al signore loro Dio e non lo cercano nonostante tutto questo attenzione Efraim è come una colomba stupida stupida e senza giudizio essi invocano l'Egitto vanno in Assyria chi è l'Egitto e chi è l'Assyria sono i capi terreni i responsabili i nostri terreni che ci dettano ciò che dobbiamo fare detto da loro ma non detto da Dio e non tenendo conto della parola di Dio mentre andranno io stenderò su di loro la mia rete ve li farò cadere come gli uccelli del cielo li castiglierò come è stato annunciato alla loro comunità il mediatore di Dio la voce di Dio è andata alla loro comunità persino ai loro capi attenzione guai a loro perché si sono sviati da me rovina su di loro perché si sono ribalati a me io li salverei ma essi dicono menzioni contro di me parlano ciò che loro vogliono io li ho educati ho rindigoriti le loro braccia ma essi tramano del male contro di me contro la parola di Dio contro le indicazioni di Dio e si tornano ma non a chi è in alto si vedono loro in alto sono diventati come un arco fallace i loro capi cadranno per la spada a motivo della della rabbia della loro lingua nel paese d'Egitto si faranno beffe di loro il Signore oggi parla ad un popolo coach specialisti dell'anima che che si chiedono è perché vengono questi dietro a noi il Signore dice Pietro il discepolo di Dio di Gesù voltatosi vide venirli dietro il discepolo che Gesù amava quello stesso che durante la cena stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto Signore chi è che ti tradisce attenzione c'era Pietro c'era Gesù ma c'era la terza persona che sta dietro attenzione che c'è un discepolo che c'è qualcuno che sta dietro a noi per vedere se tradiamo Dio ci parla da parte di Dio e sta dietro a noi per vedere se vendiamo Dio per grano per grano per soldi e Pietro dunque vedutolo disse a Gesù Signore è lui che ci fa dietro a noi il mondo coach dice che ci fa questo dietro a noi Gesù le rispose se voglio che rimanga finché io venga che ti importa tu seguimi se voglio che rimanga finché io venga che ti importa ma finché io venga che parole sono queste nel mondo biblico nel linguaggio divino sarebbe finché io venga uno viene da te visibilmente vediamo uno che viene ma nel linguaggio umano se voglio che rimanga finché io venga che ti importa se voglio che rimanga questo che ti segue finché viene Gesù nella tua vita e ti parlerà direttamente alla lettura che ti importa tu seguimi per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto ma se voglio che rimanga finché io venga che ti importa questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera questo che viene dietro al mondo coach il signore dice se io voglio che lui venga che ti importa è proprio quello che rende testimonianza del mondo coach di queste cose che accadono di ciò che ho letto noi sappiamo che la sua testimonianza è vera c'è sempre un mediatore che il signore manda ad una nazione come farebbe questa nazione di cui il signore parla ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto vivo ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove e questa è la prova è per questo che ci segue questo discepolo dietro sta dietro signore e questo che cos'è che mi segue è una prova è una testimonianza di questa cosa che il signore va a cercare a prendersi una nazione di mezzo ad un'altra nazione mediante prove ci sarà una prova che il signore viene a prendersi un popolo che serve che servirà a lui a testimoniare di lui la parola di Dio che predicherà la parola di Dio si prenderà questo popolo in mezzo a un popolo di cocci osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il signore il tuo Dio ti dà ti darà a Dio il piano nella nostra vita l'uomo fa tanti piani nella sua vita ma il piano di Dio il piano di Dio quello si compirà Amen l'uomo fa tanti piani